Due capitani del quartiere di Porto Santo Spirito, Massimo Nocentini e Franco Scorteggi. Massimo, parte da te che sei il più anziano dei due capitani. Tu sei stato capitano, dirigente, capitano vittorioso. Che esperienza porti con te nel cuore della vita vissuta Santo Spirito? Un'esperienza bellissima, anche perché sono tempi nei quali ho avuto la possibilità di avere tante soddisfazioni. Soddisfazioni che mi hanno permesso di avere una tranquillità addosso. Chiaro che ci sono stati dei sacrifici, ci sono stati dei momenti difficili. C'è stato qualche momento in cui veramente non sapevi da che parte farti. Perché il periodo in cui ho fatto il capitano io e poi mi ha sostituito Franco e non era come ora che abbiamo i fantini, i giostratori che hanno la possibilità di poter allenarsi tutto l'anno. A quell'epoca lì, io ti dico che come esperienza negativa, mi sono trovato a dover scendere dal Consiglio la notte alle tre e dire ai fantini che aspettavano giù sotto chi doveva correre il giorno dopo. È una delle cose più brutte che possono essere capitate all'interno della giostra e del quartiere di Santo Spirito. Però erano momenti nei quali, chiaramente, erano qualche anno che non vincevamo e dovevamo provarli di tutti. E questo è stato il momento. Però sono momenti che vorrei poter rivivere. Qual era il rapporto tra il capitano e i giostratori di allora? Perché oggi c'è tanta televisione, tanti social, eccetera. Di quell'epoca lì si sa poco, si conosce poco. Qual era il rapporto tra te e i tuoi giostratori? Il rapporto tra me e i miei giostratori non c'era un rapporto particolare. Salve con Silvano per un certo periodo. Però il problema è che il rapporto che devi avere lo devi avere in modo professionale. Perché se incominci ad avere un rapporto di amicizia oppure un qualcosa che devi fare perché è un amico, diventa difficile potertelo gestire anche all'interno della giostra e del tuo quartiere. Perché non puoi permetterti certi tipi di cose. E quando ti accorgi che qualcuno può fare un qualcosa di diverso o ha intenzioni diverse, io sono abituato a ritirarmi da una parte. C'è stato il passaggio di consegna, fra voi due. Prima lui capitano, poi dopo sei arrivato tu. Quando di fatto al quartiere c'è stata una sorta di rivoluzione. Una rivoluzione sia dirigenziale che anche di impostazione. Qual era la visione in quel momento per metterci la faccia? Andare a ricoprire ruoli importanti, come hai poi dopo ricoperto tu da capitano, in un momento che non era affatto semplice, anzi forse più complicato della storia del quartiere. Capitano per caso. Perché erano veramente momenti bui. Lui in quel momento c'era all'interno del consiglio due anime e mi fu chiesto di assumermi questa responsabilità, cosa che avessi dovuto scegliere non l'avrei mai fatto perché non mi risentivo mai in quel ruolo. L'attaccamento al quartiere? Mi resi conto che in quel momento forse ero la persona che riusciva a stare in mezzo a questi due mondi che avevano visioni diverse. Quindi mi prestai al ruolo senza grossi risultati perché poi arrivai che era già stato tutto deciso, c'era già il contratto con il quartiere verde di Faenza, quindi c'erano già i giottatori sotto contratto. Quindi mi ritrovai sbattuto là e in effetti si vede anche nei risultati della prima giostra, insomma, che penso che l'avrei battuto tutti i record col doppio zero. Però in quella fase lì quanto, nonostante, come dicevi tu, di sorta era stato tutto apparecchiato, però quanto è complicato comunque fare il capitano in un momento in cui ti trovi tutto di fronte già deciso e te che comunque vada devi dare la tua impronta. Sì, lì l'impronta ce l'ha da poco. Per fortuna c'avevo anche Massimo che mi stette vicino in quella fase cercando di istruirmi, di insegnarmi anche a fare il capitano. Perché, ripeto, io avevo fatto l'appaggetto, l'armigero, per una vita avevo portato cavalli di giottatori in piazza perché è sempre stato più vicino ai cavalli che ad altro. Quindi mi ritrovai lì, ripeto, cercavo di copiare, di assimilare quello che mi veniva passato e trasmesso da chi mi aveva preceduto cercando di fare il possibile. Ma c'era anche poco da scegliere perché si arriva in piazza quando parti con lo zero iniziale e dopo qualunque scelta diventa facile, difficile o quasi inutile. Massimo, te invece hai vinto, sei tornato al quartiere con più di una lancia d'oro. Che sensazione hai quella di vincere con quel vestito lì? Sensazione stupenda. Tocchi il cielo con un dito, chiaramente sono momenti irripetibili e è un qualcosa che ti segna per tutta la vita perché è chiaro che sei lì. Poi il problema è un altro, che il capitano quando è in piazza è l'unico che può permettersi di parlare col maestro d'armi. È l'unico che può fare un qualcosa o chiedere un qualcosa al maestro d'armi perché c'è dei comportamenti sbagliati. Hai tre secondi per poter reagire. Sono quei momenti che la giostra, parlavo prima con Franco, io durante il periodo in cui ho fatto il capitano non ho mai pranzato prima della giostra perché ero digiuno e dovevo stare digiuno. Qualsiasi cosa che mettevo potevo avere delle grosse problematiche che non volevo perché dovevo e volevo essere presente. Invece tu hai ricoperto anche il ruolo di magistrato della giostra. Vedere la giostra, vedere il ruolo del capitano il capitano da la seduta della magistratura in Piazza Grande com'è? Ti posso dire che anche quella è stata un'esperienza bellissima anche perché io sono stato nominato magistrato e tra l'altro molto probabilmente la magistratura aveva un'idea diversa da quella che può avere uno che viene dalla giostra. Chiaramente la magistratura era in quel momento repressiva e io forse sono stato tenuto sotto osservazione perché venendo da un'esperienza di giostra e avendo fatto anche il capitano avevano paura che avessi dei comportamenti diversi. Poi e dopo molto probabilmente qualcuno si è ricreduto perché come magistrato vedi la giostra in un modo diverso ma puoi insegnare anche agli altri magistrati vista la tua precedente esperienza cosa non dover fare per evitare problemi. Io sono una di quelle persone che pensano che in magistratura ci dovrebbero essere anche uomini di giostra. Tu Franco invece l'hai vista da un ulteriore visuale livello quello più in alto assoluto quando esisteva l'istituzione giostra del Saracino invece da capitano fare il presidente dell'istituzione e gestire la macchina organizzativa lo so te l'hanno chiesto tante volte ma che passaggio è? Se ripensi all'epoca del capitano e quella del presidente. Senti io ti devo dire che come epoca del capitano non è stata un ricordo ottimale perché dal doppio zero mi ritrovai a dover gestire una situazione di un figurante noto che tirò una zolla a maestro di campo un'altra giostra tornando al quartiere con la coda fra le gambe mi toccò ricoverare in casa i due giostratori perché se no li veramente restavano il linciaggio e toccò farli venire a prendere col furgone e la polizia dopo cena. Quindi sinceramente con tutta la mia vita vissuta all'interno del quartiere da quando ero piccino che ho fatto il paggetto poi non è stata una delle epoche più che ricordo con piacere insomma è stata abbastanza pesante come presidente dell'istituzione nonostante le difficoltà iniziali perché comunque intorno percepivo molto scetticismo da parte degli altri quartieri pensando che io potessi fare chissà che in un momento in cui avevo anche un vicino in casa un personaggio che comunque partecipava in modo attivo alla giostra come giostratore quindi accreditarmi e nei confronti dei quartieri ci è voluto un po' di tempo ma con mia soddisfazione poi alla fine mi ha mandato addirittura nel palco della giuria durante la giostra per intervenire per cambiare poi l'inchiostro che è stato un momento ipocale e quindi è stata un'esperienza aver acquisito fiducia da parte dei quartieri perché ho sempre cercato di essere equiditante poi il presidente dell'istituzione non è il maestro di campo quindi io il giorno della giostra sono in tribuna però io penso l'esperienza mi ha vissuta nel mondo della giostra mi ha permesso di vivere intensamente anche il ruolo del presidente preoccuparmi sapendo le difficoltà dello zoccolo, della terra, della lizza dove legare i cavalli del corteo per fare le poste in un modo idoneo quindi è servita molto la soddisfazione maggiore non vi nascondo quando siamo riusciti a concretizzare il sogno della terza giostra straordinaria che siamo scesi con Arezzo e la giostra a Roma davanti a Santo Parre con tutto quello che c'è stato quattro mesi dentro il Museo Vaticani ecco, l'amore per la giostra oltre che per il quartiere lì l'ho potuto esprimere anche attivamente l'ultima battuta te la faccio invece in ambito tecnico che tu sei comunque un tecnico della giosta un uomo di cavalli oggi si parla tanto di professionismo di allenamenti tutti i giorni i giostratori si allenano rispetto all'epoca in cui tu eri dirigente che si viveva l'aspetto tecnico in maniera completamente diverso ma oggi forse si è arrivati al massimo e si sta esagerando oppure è giusta la direzione? ma io vedo poi all'interno per quell'esperienza che io vedo il quartiere dove sono cresciuto che comunque sì c'è professionalità ma è anche un momento importante di aggregazione per la città per la giostra io lo dico sempre noi siamo quelli che siamo cresciuti col sogno un giorno di avere i giostratori a retini e oggi ci siamo riusciti e sembrava un'utopia ipotizzare i campi prova anche quello è un sogno che è partito da lontano perché anche il quartiere già negli anni 90 iniziò a fare i primi passi per avere una propria struttura era un sogno un sogno che i cavalli fossero del quartiere per eliminare il mercenario quindi era più difficile oggi che i giostratori si possa spostare da un quartiere all'altro perché i cavalli sono del quartiere quindi i giostratori senza cavalli altri due o tre anni di tempo per ritornare in piazza del vincitore io ho un altro sogno sarà un'utopia ma forse dall'esperienza che ho vissuto in famiglia oggi i quartieri hanno una propria struttura e hanno proprio dentro le strutture i cavalli in pensione cavalli che ahimè per 20 anni secondo me è troppo presto ma sono ancora cavalli che possono dare tanto avere un istruttore e iniziare a fare la scuola di equitazione per i quartieristi 10 ragazzi che montano a cavallo forse 4 vanno a fare gli ostacoli vivono in campagna 3 smettono ma se ne esce uno il ruolo del giostratore che nasce da paggetto e arriva a fare il quartierista sicuramente ha un valore aggiunto per ogni quartiere e poi per la città i sogni di prima si sono avverati speriamo che anche questo un giorno io posso vedere i miei nipotini per continuare anche questa tradizione di famiglia salire in cella o quantomeno vettire i colori del quartiere per la città per la città